che ci sa questa gente via a coperlo ciccio che ci può tutto si può vedere ragazzi stiamo organizzando e tutto si può vedere tanto guardiamo in tutta la Ligure qua verso Genova Levanto il paese là il Levanto ancora il mare noi giriamo per la spezia signori la spezia 25 la mamma ci spettacolarmente cinque terre abbiamo appena fatto la salita che ci ha portato su da Montenus al mare molto acce che salita 15 per cento qui siamo al bivio che li andiamo verso la spezia io maggiore sempre io e lei a feed the bike giro andiamo ciao il cash è uno che lei non l'è chiusa no ascolta guardando guarda vedi noi siamo qui guarda vedi da lì perché c'è la spezia vai anche di là vai giù vedi scendi e poi ti riattacchi alla spezia e non ce n'è altra interrotta poi c'è scritto qualcosa che hanno le strade per arrivarci questa è la strada basta andare a diritto e scavalcare c'è il sistema c'è scritto lì però se non si conosce vedi è una segna però andare a rischiare poi c'è qualcosa a un bar non ti conosce dai sei a casa qui vedi località invernale si si chiude aspetta arrivo là c'è quella che resta c'è maiora mazza c'è una attività c'è una attività c'è una attività mazza c'è una attività 5 terre Scusate, ma non si passano neanche i mici? Sì, si passa il filamento Sì, c'è un'azione praticamente dove non si può scendere l'Arnazma Ah, no no, per andare alla spezia Questo sì, questo sì Meno che ci sia questa interruzione qua, ma una volta si faceva tranquillamente No, siccome c'è il cartello c'è Eh, ho visto il cartello, dice che non c'è l'abbignazione per arrivare l'Arnazma E la spezia Ah, anche la spezia?